certo ovviamente ma perché raga adesso come minimo mi trova anche un cheater perché di solito quando gioco bubba mi trovo the game e un cheater grazie caro gentilissimo raga spammate tanti cuori per favore partito pure il treno grazie gna gno dove è andato giù qui sono parte c'è qualcuno brava the game e cheater di solito mi arriva sempre con bubba bubba the game e cheater di solito ci sono sempre come combinazione l'agilità minchia quanta distance la testa bild in the game è forse la migliore che ci sono più palle vabbè è pure del naso che ne pensi di nuovo dragon age non l'ho visto nessuna mente ma sono rimasto a che il primo dragon age bellissimo godurioso da imbiancare i muri tutti gli altri non mi sono mai piaciuti il 2 e il 3 mi hanno fatto cagare quindi credo che sarà più o meno la stessa cosa grazie caro grazie del supporto ragazzi state mandando i cuori in chat ciao bubba be coverage stiamo buba col basement qua quasi quasi mel caam però vuole usare pop se possibile ma pregata nessuno è andato per il save oddio qualcuno è andato per il save e niente che poi i Dragon Age se non sbaglio li hanno regalati in passato sia su origin che su epic quello lo so onestamente considera che ci sono delle mappe con dei mori invisibili anche è un bug di generazione di mappa questo lo appendo al primo jam che trovo al primo che trovo perché lo dovete sbagliare minchia ragazzo digerendo ancora mi sto autodigerendo penso vabbè non è stata proprio una bella giocata quella tipa 10 dovrebbero nerfarlo un po' secondo me sta cosa di boba che se vieni sganciato ti può hittare due volte con la motosega ciao Andrea buonasera caro come stai lo rende troppo forte per camperare buba è tremendo un bevante è per questo proprio perché ti può hittare due volte così è tremendo tutto a posto grazie il primo sto prendendo due veramente atroce inquisition controverso ma carino a me è piaciuto solo il primo di dragon age meccanicamente parlando poi di storia non lo so però il primo era veramente 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 divino hanno cambiato un po' lo stile non mi è piaciuto tocca riportarla perché sto giocando bene zero value da tutto va bene sono troppo forte non mi saranno i perk mi sa che rattano raga si rattano su serio che palle ciao fuori buonasera come stai grazie ragazzi del treno gentilissimi ma stanno davvero rattando così tanto mio dio che schifo mi sono piaciuto ad assordire a caso niente ho messo a mettermi a cercare nei locker io ieri è stato letteralmente 20 minuti si questo è il problema di sto gioco secondo me quando due vogliono rattare non fanno il gen secondo me se non tocchi un gen entro un minuto dovrebbe darti già un minuto magari un minuto e trenta dovrebbe già darti qualcosa ma lo sono entro in chase o tocchi un generatore dovrebbe darti i corvi non puoi stare per un minuto e trenta a non fare letteralmente niente curare qualcuno cioè è veramente una roba stupida questa a livello di gameplay proprio vediamo si va bene gian gian dai un vecnino giuro mi addormento idem sixi ma veramente cazzo eh si esatto è perso per loro però capito devono scartavetrare il cazzo fino alla fine oddio non ho toccato sto gen in realtà per evitare di essere di prendersi i corvi probabilmente l'hanno toccato questo vado nel basement mi è sembrato di sentire un locker però mi è sembrato di sentire un' sì ho capito che nessuno vuole morire però è vergognoso così capito giuro me ne vado adesso andiamo a giocare a minecraft intanto che dite oh meno male meno inizio il cesco sono uno passo con due no dai anche io no io di solito mi suicida basta i toxic ma assolutamente perché hai fatto una shot per borio grazie non avevo voglia neanche di andare in gioco a cercare altro perché cazzo once lucky eh ma tanto c'è comunque la porta che boba non è buona difendere queste porte guarda che come minimo adesso sta nascosta per altri due minuti eh come minimo giusto per far perdere tempo sai quanti me l'hanno fatto a meno che per l'inerzia si ho capito però mi rompe le palle vecchiaia si vabbè non apre le porte è ancora in qualche locker nascosto che stress raga va al centro il divertimento veramente mamma mia è durato due minuti di game effettivo e poi dieci minuti a cercare i ratti cazzo che rottura di coglioni basta si esatto vediamo dove sta secondo me è sotto ma era ah stava per uscire ce l'aveva quasi fatta actually è morto all'uscita è morto a un centimetro dall'uscita coglione 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 povera c'aveva unico sopravvissuto stravolgimento unico sopravvissuto oh mio dio ma che cazzo c'ha chi tanto stravolgimento sei unico sopravvissuto come tua madre cioè è pur riuscito a morire è pur riuscito a morire sopravvissuto 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 sopravvissuto